ragazzi ovviamente questa che ho fatto nel primo video era come avevo detto una prova quindi funziona c'è il suo volume la sua complessità ma funziona però ovviamente se prendere un modulo da atom è tutto più veloce vedete la differenza con il modulo atom si prende la lunga lan si mettono i puntalini i quattro fili ed è fatto definito questo è uguale a questo non c'è nessuna differenza anzi questo qui è un esport 266 questo è un espo 32 e anche più potente ovviamente con l'atom come è stato fatto anche per il seppos il tutto è molto più pulito e funzionale questa opzione dove bisogna avere ben tre moduli ma va benissimo ed è molto più pulito farlo anche con un modulato come questo quindi ragazzi se volete una cosa più pulita magari questa qui costa 2 3 euro questa costa una decina d'euro quindi c'è 20 euro ma sicuramente esce molto più pulito è funzionale si prende si collega l'inverter e tutto nazionale come vedete molto più pulito molto più funzionale e adesso avete posto in verte su espium pnome assistant con i comandi mqtt o in api la vostra scelta un saluto da savio